Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo blog che parlo del fatto che non ho dormito come potete avere notato dagli scorsi blog che in più il fungo che c'ho qua sotto evidentemente non è un fungo è un'allergia e non so se dobbiamo chiedere aiuto a qualcuno o no perché la situazione è grave in più anche va a vedere ho sbattuto qua perché da tutto il giorno che ho male perché sono stata quasi metà da un tempo a dormire e ho scoperto che sono stanchezza avevo il dubbio di avere anche la febbre a un certo punto e anche perché prima ho rischiato anche di vomitare perché dettagli a parte quello nulla adesso vi faccio vedere aspettate vediamo sto giocando a Super Smash Bros Brawl ma l'ho messo in pausa perché stavo capito registrando e niente a parte questo è nulla io adesso cerco di completarlo di nuovo a meno così ho qualcosa da fare io vi saluto ci vediamo in caso domani o tra poco con un altro video e scusate l'assenza ma come notate non è stata una giornata granché come anche adesso vabbè io vi saluto ci vediamo ciao